Non si abbassa l'attenzione di Regione Lombardia sul quartiere Lorenteggio di Milano. La sua rigenerazione urbana risulta il più importante intervento messo in atto non solo per il rapporto tra numero di famiglie e abitazioni coinvolte, circa 2.700, ma anche per l'importanza delle risorse individuate, complessivamente 100 milioni di euro. Il piano di riqualificazione è parte integrante dell'accordo di programma, nato e costruito negli anni grazie alla stretta collaborazione tra Regione Lombardia, Comune e Aler Milano. Il progetto per il civico 181, che comprende tre edifici, prevede la demolizione e la successiva ricostruzione. Oltre 300 appartamenti saranno ricostruiti, i palazzi verranno demoliti e verranno ricostruiti nuovi. Finalmente dopo tanti anni ci saranno delle case popolari nuove e belle. Oltre 230 saranno invece ristrutturati e saranno dati agli inquilini che sono in graduatoria e ne hanno diritto. Quasi 600 appartamenti nuovi, tra quelli che verranno costruiti e realizzati nuovi e tra quelli che saranno ristrutturati. Il quartiere cambierà faccia. Questo palazzo, via l'orienteggio al 181, verrà demolito. Qualche mese fa le famiglie a 20 diritto sono state spostate da Aler in altri appartamenti. Purtroppo qualche d'uno ha approfittato della situazione e del cantiere per occupare il palazzo. Oggi qui vivono 36 abitanti che sono tutti occupanti abusivi e che hanno creato questo degrado, questa mancanza di igiene, questa mancanza di salute. A loro va data la colpa, a loro che occupano abusivamente, togliendo di fatto un diritto a chi invece aspetta da anni una casa popolare. Ma i lavori e l'azione di legalità non si fermeranno. Nelle prossime settimane il cantiere andrà avanti e questo edificio finalmente verrà demolito come quello a fianco che è già stato demolito e nei prossimi anni qui ci saranno case nuove che verranno date ai milanesi e agli italiani che sono in graduatoria e che da anni aspettano una casa popolare e che anche per colpa di chi è occupato abusivamente alloggi popolari fino ad oggi non l'ha avuta. Chi occupa delinque e in questo caso ne abbiamo una prova evidente. Regione Lombardia vuole dare un plauso all'autorità giudiziaria, alla prefettura e a tutte le forze dell'ordine che insieme a noi e al Comune di Milano stanno cercando di dare legalità a un quartiere che purtroppo molto spesso i furfanti e i delinquenti hanno fatto i furbi. Ecco qui non sarà possibile, noi andremo avanti senza fare sconti a nessuno e ripeto chi giustifica, chi copre e chi aiuta i delinquenti e chi occupa abusivamente è connivente con loro e manca di rispetto e offende persone che da anni aspettano una casa popolare e proprio perché alcune sono occupate abusivamente non riesce a ottenere questo suo diritto.